Fabiano, un primo tempo così così, poche conclusioni in porta, un Verona che comunque ha avuto il merito di andare in vantaggio e poi però nella ripresa non c'è stata storia. Sì, abbiamo avuto un primo tempo un po' di studio, abbiamo aspettato di vedere loro come erano disposti in campo, abbiamo visto che loro comunque in primo tempo hanno tentato anche qualche azione d'attacco, abbiamo subito spostato il baricentro in avanti anche portando una punta in più e alla fine abbiamo avuto ragione. Un Verona che alla lunga non ha risentito più di tanto delle assenze ovviamente importanti. Sì, diciamo che le assenze che abbiamo sono importanti però noi lavoriamo sempre per un gioco di squadra, è un gruppo stupendo il quale si mette a disposizione dello staff e sta lavorando bene. Melania, un primo tempo un po' sottotono, poi nella ripresa quando il Luserna ha mollato un po' la presa non c'è stata partita. Beh sì, il Luserna al primo tempo si è chiuso tutto in difesa quindi noi facevamo fatica a trovare il varco giusto per andare in porta, forse un po' anche per culpa nostra perché facevamo troppi tocchi e quindi non davamo velocità alla manovra, però poi secondo tempo i spazi sono aperti quindi è stato abbastanza facile per noi. Una prima giornata di campionato che ha confermato le big come da pronostico? Beh sì, credo che l'importante è partire col piede giusto per la prima giornata, adesso abbiamo la sosta e quindi c'è tempo per lavorare con la squadra. L'importante è partire bene, poi ovvio il campionato ti offre tante partite e sicuramente sarà un bel campionato da affrontare. Silvia, sei tornata al gol ed è anche un gol che ha servito a dare tranquillità alla squadra dopo un primo tempo così così. Sì, sono contenta appunto di aver segnato ma per quanto mi riguarda sono contenta soprattutto di essere riuscita a rimanere in campo per tutti i 90 minuti perché sono ancora un po' indietro di condizione quindi non pensavo di riuscire comunque a rimanere in campo per tutta la partita. Al primo tempo abbiamo un po' faticato a realizzare comunque le occasioni che ci sono state però appunto una volta sbloccate si è vista comunque la differenza fra le due squadre. Un campionato che per quello che si è visto non ha visto sorprese con le big che hanno vinto abbastanza largo. Sì, diciamo che appunto non ci sono state sorprese, era importante anche per noi partire con il piede giusto e credo che comunque sia gli scontri diretti saranno fondamentali quest'anno, oltre che ovviamente sarà fondamentale appunto non sottovalutare squadre di caratura inferiore, comunque credo che sarà appunto un campionato avvincente e molto bello.